Uno strumento agile e immediato a disposizione dei ragazzi e delle ragazze piemontesi per segnalare al garante per l'infanzia e l'adolescenza episodi di violazione dei loro diritti. E' l'app DigiCore presentata al campus Einaudi di Torino. L'app è frutto del progetto Children DigiCore finanziato dalla Commissione Europea e realizzato dall'Università di Torino in partnership con il Consiglio regionale del Piemonte. Un percorso di consapevolezza dei propri diritti e anche di volontà di prendere in mano la propria vita e di chiedere aiuto agli adulti di riferimento. Il progetto prevede azioni di sensibilizzazione dei ragazzi e della cittadinanza in generale e incontri di informazione e formazione dei professionisti del welfare minorile sui diritti dei minori e in particolare sui cosiddetti diritti di partecipazione delle persone di età minore.